Buonasera siamo qui con Fratta migliore in campo nella partita tra Midori, Sawa e Asse Mazza terminata 5 a 2 per i Midori Sawa 5 a 3 scusami e Fratta migliore in campo difensore un solo gol ma non per questo migliore in campo l'abbiamo detto anche se durante la telecronaca ottima prestazione di Fratta Abbiamo vinto tutta la squadra partita sofferta rispetto alle altre partite abbiamo giocato forse un po' peggio le altre partite però abbiamo lottato alla fine dell'ott'anno siamo riusciti a vincere anche questa quarta partita Senti Fratta la settimana scorsa mi avete colto con una gaffa perché avevo detto che era anche questa settimana siamo alle 4 vittorie consecutive Midori, Sawa si possono quindi confermare la bestia nera di tutte le squadre Noi puntiamo a fare meglio Salvezza puntete all'alfabetza puntete puntete puntiamo alla salvezza Ok va bene allora mi vuoi dedicare i gol il premio San Nino che San Nino darà una grande Oggi come gli anni auguri toni Una dedica a Riccardo Riccardo Amatore Grazie Ringraziamo Fratta, Midori Sawa e arrivederci alla prossima Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti